Ciao a tutti ragazzi, io sono Gianfimen e siamo in compagnia di... Roccatone ragazzi, bello a tutti! Siamo su Rocket League e faremo la partita è nella seconda puntata di Rocket che precisamente mi hanno subito demolito siamo nella seconda puntata perché a noi comunque è un gioco che ci piace a montarlo ci vuole meno di FIFA oppure di GTA e domani penso che non lo faremo facciamo GTA e FIFA aiuto oh cacchio no 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 e dai vieni palla oh vai ma che segno? eh va a segnare che ti passi comunque ragazzi oggi non so se porteremo in una o due partite perché una partita dura 5 minuti quindi forse due ce la facciamo boh che dici? ogni tanto siamo soli davanti alla porta forse è meglio che ne facciamo dare una sola boh siamo un po' indecisi ragazzi oh vai oh vai brigati no bravo Matteo fa demolire un avversario aiuto gli ho demolito proprio no mi ha rubato il turbo Matteo no guarda come mi ha salvato no guarda come mi ha salvato no guarda come mi ha salvato e poi che sta succedendo quello mi voleva demorare vai salvato vai salvato vai di forza 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 è rete 2 a 0 no ho salvato io no 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 comunque ho cambiato macchina rispetto alla prima puntata mi sono demolito no che sta succedendo Comunque faremo due partite, tanto se la faccio con lì Uffa non c'è il turbo Sei segnato Siamo più forti qua che sul fibra Abbiamo fatto un po' la cu Un tocco morbido di corna Un porno Questa è la seconda puntata La prima è stata caricata poco fa Però state sicuri... No, l'ha rubata l'ultimo Ma che ci sto io? Eh, venga, comunque penso di portare la seconda partita Guarda che recupero che abbiamo fatto No, che ho fatto? No, ce l'avevo pure io a destra Vai, no No, cazzo Ma che vuole lo dog, quello di là? Ciao, sono bello, eh? Mi piaccio Assenti Il libro è assurdo No, perché indietro? Cavoli, palleggi qui? Dov'è la palla, eh? Fai il triangolo Fai il triangolo Sì, il ball cam È vero, non mi trovo più comodo con la telecamera sulla macchina Il tavolo l'hanno portata via Mancano due minuti Non ci dobbiamo fare Guarda che sfiga, non avevo quasi preso Guarda capirà che colpo Oddio che bug Non c'è il turbo qua da... Ah, è ricompatto Che è successo? Dov'è andata la palla? Ah, ecco L'ho lanciato io Nooo, io lo stavo per rubare Guardate che fai Ho fatto tripletta Guardate, l'ha messa in mezzo E io, ma è poco a metterli Quattro a uno Oh, riga Guarda che presegno No, ti importa Non importa, io già stavo andando sul tà Nooo, non tocco scopè Niente Io già stavo andando sul tà, non potete capire Nooo Avevo fatto il tocco e me ne stavo andando via Ora non ci dobbiamo far prendere dal panico Nooo, un po' Oh, basta Ti togli? Io? Non ho il turbo Vai, li spingo Ok, sprint finale Ok, ci sono arrivato Oh my god, I thank you Nooo, perché hai messo Perché hai messo Perché hai messo Perché hai messo Perché hai lasciato la sciaccia? E voi No te Vai Niente Vai La rete Yes Nooo Guarda ma io Va bene Guarda che il volo è inserire Guarda che ho fatto io E al mordo Ma è morbido Guarda che tu cazzo Guarda che tu cazzo Guarda che li abbiamo segnato Guarda che abbiamo segnato Non ce la faccio Stanno portando via la pala Non c'è il turbo Non c'è il turbo Ragazzi, che dire? Guardate Bene, tra qualche secondo dobbiamo smettere il video Lasciate naturalmente un bel like e iscrivetevi Non è detto che facevamo due partite? Eh, ma non so se c'è tempo Dovremmo rischiare E c'è una rete tripletta per me No, vabbè, non rischiamo Non rischiamo ragazzi Andiamo subito a concludere Purtroppo Andiamo sul video Non so se vi porteremo il terzo video su GTA Non sappiamo Non sappiamo Vado a spinto Vado a spinto E? E del ruppettone Bella ragazzi E del ruppettone E del ruppettone